L'impressione della partecipazione è buona, bisogna cercare di capire come sempre succede quando la partecipazione è così alta e che cosa ha spinto tanta genere a lavorare. Il desiderio di partecipare alla scelta del simbico di Bari è benissimo, se invece le motivazioni sono altre ci sarà da preoccuparsi, ma questo non lo possiamo dire ora.